Cari amici, eccoci a un altro episodio della fascinante storia romana che vi racconto passando attraverso delle biografie, parlando di alcuni personaggi storici importanti. Abbiamo visto quindi le guerre contro gli Etruschi, ricordate abbiamo parlato di Tarquinio Superbo e così, abbiamo parlato delle guerre contro appunto Veio, delle guerre contro Sanniti, delle guerre contro Pirro e ognuna di queste guerre ha un suo personaggio, Furio Camillo, Appio Claudio Cecco eccetera eccetera. Quindi questa volta invece vediamo che Roma è diventata più potente, ha ormai esteso il suo influsso su tutta l'Italia centrale, su parte della quella che oggi è la Toscana, ha, diremmo dopo la sconfitta di Pirro, ha esteso i suoi poteri nella Puglia e anche in Calabria, quindi Roma sta diventando una grande potenza sostanzialmente attorno al 250-260 a.C. e in quel tempo, diremmo nella parte occidentale del Mediterraneo, c'è un'altra grande potenza, anche questa molto evoluta sul piano ormai della civilizzazione, qui c'erano delle grandi sconfinate terre di barbari e poi c'erano dei punti di civiltà che erano in Egitto, in Grecia, in Asia Minore, e le due grandi civiltà che abbiamo nella parte occidentale del Mediterraneo, l'una a nord, Roma, l'Italia, l'altra a sud del Mediterraneo, ovvero Cartagine, nell'attuale Tunisia, e sono le due grandi civiltà. Ovviamente queste due civiltà hanno avuto, vi ricordate, ne abbiamo parlato, momenti di alleanza, perché per esempio Cartagine aveva appoggiato Roma nella guerra contro le navi degli Etruschi, che gli Etruschi erano dei pirati del Tirreno, e quindi Cartagine aveva aiutato anche Roma ai tempi di Pirro, quando Pirro aveva cercato di, dopo dall'Italia era passato in Sicilia, che era a quel tempo dominata sostanzialmente, per una parte, almeno occidentale, dai cartaginesi, aveva aiutato Roma, quindi c'erano queste due grandi potenze, erano sostanzialmente alleate. Però, come noi sappiamo, avviene negli esseri umani, quando due grandi potenze poi crescono, maturano e vogliono i territori anche dell'altra, e quindi è inevitabile, non esiste mai sostanzialmente, non potrà mai esistere una coesistenza pacifica, come sarebbe auspicabile, tra un grande blocco creato dalla Russia e dai suoi satelliti e l'altro blocco creato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti. Ognuno di due cercherà di portare via qualcosa, gli Stati Uniti cercando di annettersi alla loro influenza, per esempio l'Ucraina, la Russia cercando di portare via dei satelliti dell'America nel Medio Oriente e via via, questo è nell'ordine delle cose, della politica degli esseri umani e quindi anche Roma e Cartagena a un certo punto vengono in collisione. Vengono in collisione per una cosa banale, si trattava di una disputa che c'era stato tra il tiranno di Siracusa e i Mamertini, che erano dei mercenari sanniti in realtà, che dalla campagna erano andati al suo servizio, poi erano però stati liquidati e nella via del ritorno, invece di tornare nelle mie campagne, si fermano a Messina e creano a Messina una loro cittadella, massacrano gli abitanti e si installano a Messina. A questo punto il tiranno di Siracusa va contro di loro, cerca di andare contro di loro e chiama anche in suo aiuto anche Cartagena e Roma invece va a difendere i Mamertini, cosa un po' strana, però ci sono questi continui rivolgimenti della politica, vedremo poi che il tiranno di Siracusa poi diventerà in realtà un alleato fedele di Roma perché aveva un grande interesse, lui che era a capo di una città della Magna Greccia, di scacciare sostanzialmente dalla Sicilia e Cartaginesi che erano nella parte occidentale. Quindi vengono in contatto queste due grandi potenze, Cartagena la grande potenza marinare, Roma la grande potenza sul terreno e gli romani erano molto ingegnosi a quel tempo, come lo sono tuttora gli italiani, si arena una barca, una quinquiremi cartaginesi sulla costa e loro copiano come è fatto questa nave e si costruiscono del nulla, loro che erano stati solo dei fanti, sostanzialmente del nulla una flotta, una poderosa flotta di 300 navi e cercano di affrontare i cartaginesi, ma come sappiamo l'esperienza nella vita è tutto e quindi queste navi pur copiate, pur come quando i cinesi copiano da noi un apparecchio, vediamo che tutto sommato è meglio l'originale e quindi questa flotta copiata che affronta, nonostante i romani avessero messo a destratto i rematori, messo dei soldati eccetera, viene in realtà distrutta. Quindi i romani hanno una prima sconfitta sul mare. Però sapete che i romani avevano una cosa che avevano dimostrato nelle guerre, soprattutto contro i sanniti, nelle guerre contro Piro, avevano dimostrato questa grande caparbietà, questa grande caparbietà, non si davano mai per vinti. Avevano anche questa grande inventiva che troviamo anche sempre nel popolo italiano. Quindi cosa hanno ideato? Hanno ideato i cosiddetti corvi, ovvero erano delle specie di ponti mobili che arpionavano la nave nemica e calandosi sulla nave nemica rendevano la battaglia navale, non più una battaglia che doveva speronare la nave avversaria, ma una battaglia che scaricava dei fanti romani sulla nave avversaria, 70, 80, 100 fanti, e diventava una battaglia terrestre. E quindi i romani che erano però più abili nel combattimento corpo a corpo, quando mettono in atto questa novità tecnologica, diciamo che possiamo dire, incominciano a vincere anche sul mare. E quindi le grandi vittorie anche della flotta romana che avvengono attorno al... appunto siamo già nel 260 circa avanti Cristo. E quindi Roma si ringalluzzisce e a un certo punto prepara anche... io vi salto un po' di cose perché appunto voglio parlarvi del personaggio più che della storia di questa di cui sto dibattendo, che è la prima guerra punica sostanzialmente. Roma a un certo punto si ringalluzzita e dice beh adesso noi conquisteremo i territori anche di Cartagine, andiamo a portare proprio la guerra a Cartagine e mandano una grande spedizione, una grande spedizione che è guidata dal personaggio di cui oggi dobbiamo parlare che è Marco, che è Attilio Regolo. Quindi questo grande Attilio Regolo che è un grande personaggio, un po' forse un personaggio mitico perché noi sappiamo che spesso Roma ha creato dei personaggi mitici, pensiamo a Orazio Coclite, pensiamo a Muzio Scevola, eccetera, eccetera. Quindi forse anche questo Marco Attilio Regolo è stato un personaggio leggendario. Però a noi piace anche parlare di leggende quando ci sia da vedere qualcosa che ci faccia capire lo spirito di questi nostri progenitori. Quindi Marco Attilio Regolo salpa dall'Italia con una flotta di 330 navi e ogni nave aveva 120 fanti e quindi tra i rematori e tutto c'è un totale di almeno 200-120 mila uomini. Quindi una flotta enorme che pensate col tempo tra l'altro non c'erano la bussola che è stata poi scoperta dagli arabi e introdotta in Europa dalla prima città marinara, da Amalfi. Quindi a quel tempo si navigava di giorno seguendo il sole, di notte seguendo le stelle e se c'erano le nuvole non si poteva navigare e se c'era una tempesta queste navi dell'antichità erano spacciate. In ogni caso le navi riescono non solo a navigare verso l'Africa ma a distruggere la flotta cartaginese di 350 navi che gli si viene incontro e Marco Attiglio Regolo sbarca a Cartagine e vince poi anche sul terreno varie battaglie e praticamente sta quasi vincendo e concludendo la guerra. Tra l'altro lui voleva concluderla rapidamente perché era un personaggino piuttosto ambizioso, piuttosto duro ecco dove pensiamo questi personaggi romani li abbiamo visti tutti essere piuttosto ruvidi, piuttosto duri e quindi propone a Cartagine delle condizioni di pace terribili consegna di ostaggi pagamento di indennità di guerra abbandono della Sicilia della Sardegna eccetera cosa che Cartagine si era stata sconfitta ma non era stata distrutta completamente e quindi Cartagine non accetta queste proposte e addirittura in carica un soldato un generale un grande generale di Sparta diremo Santippo e questo Santippo a destra diremo i soldati cartaginesi e questi sconfiggono grazie anche a una buona cavalleria che avevano i cartaginesi sconfiggono i romani c'è una grande sconfitta questi romani erano tra l'altro rimasti in pochi perché prima in autunno la gran parte delle legioni e delle navi erano state ritirate a Roma ed era lasciato è stato lasciato come un presidio col console a Tiglio Regro pensando di avere già vinto la guerra sostanzialmente invece vengono sconfitti solo 2000 di questi si salvano a Tiglio Regro del console viene fatto prigioniero e così e la leggenda racconta che i cartaginesi però non ne potevano più della guerra loro erano dei commercianti a loro interessava i soldi gli interessava guadagnare gli interessava andare avanti a fare la guerra all'infinito dovevano fare i commerci con la Spagna con l'Africa erano dei sostanzialmente più che uno stato cartaginesi erano quella che potrebbe essere oggi una multinazionale sostanzialmente quindi loro interessava sostanzialmente il guadagno e finire quindi la guerra perché la guerra bloccava i loro guadagni e allora mandano a Tiglio Regro la loro idea a Roma cercando di di perorare diremo la pace vai a Roma e cerca di perorare la pace però impegnati dicono che al fatto che se non riuscirai a convincere il senato romano a cartaginesi la pace onorevole tornerai qui e dovrai subire le conseguenze allora durante la la traversata in nave a Tiglio Regro questo ecco questo uomo romano tu di un pezzo pensa dice ma dovrò io convincere Roma a diremo a lasciar vincere questi questi pop a non vendicare la sconfitta delle regioni il fatto che abbiano che i Mielio giornali sono prigionieri delle campagne vicine a Cartagine che le insegna romane che le aquile sono appese nei loro templi e quindi quando arriva a Roma esorta il senato a non stipulare la pace quindi il senato lo guarda il senato in realtà lo guardano un po' un po' strano dicono ma com'è che questo viene che poi sa che rischia la sua vita però lui è irremovibile e con il suo sguardo fortissimo convince proprio i senatori a non dare la pace a Cartagine e poi però non fa non è che si rintana lì e poi prende le navi e vado ad attaccare Cartagine no come ha dato la sua parola uomo di parola torna a Cartagine e riferisce che il senato romano non accetta questa pensate un po' molto simile a Buzzo Scevole a tanti romani che abbiamo visto e quindi torna nonostante la moglie i figli li implorino di rimanere a Roma torna a Cartagine e lì naturalmente i cartaginesi cosa fanno secondo la tradizione viene accecato poi viene messo in una botte con dei chiodi e rotolato giù per la montagna quindi cos'è che ci si piace di questa figura è la figura della della lealtà romana della parola data di chi non si tira indietro di chi non vuole per salvare la sua vita vedere la sconfitta di Roma e il perire dei suoi compagni e invece nello stesso tempo lui incoraggia Roma ad ad armare una nuova flotta e questa nuova flotta sarà una flotta che andrà poi a Roma e dopo anche una sconfitta di cui abbiamo già parlato che è quella attribuibile poi al figlio di Appio Claudio Cecco quel famoso Publio Claudio Pulcro dopo un'iniziale sconfitta i romani in realtà riescono a vincere su cartagine e si sarà la fine della prima guerra punica che grazie appunto a questo gesto bellissimo di Artiglio Regalo vuol dire noi ce l'abbiamo fatta da soli ce l'abbiamo ecco un po' come l'Italia oggi dove l'Italia dovrebbe essere guardare a questi personaggi avere l'orgoglio di farcela di farcela da sola l'Italia a superare anche questo momento difficile che stiamo vivendo per esempio per il coronavirus così via lì Roma riarma nuovamente un'altra flotta rimette in mare soldati rematori eccetera sconfigge definitivamente Cartagena quale è stanca ma di guerra chiede la pace e Roma avrà sua la Sicilia la Sardegna il mare tirreno sarà completamente di Roma e nello stesso tempo sapete come dicevano i romani si vispace parabellum perché in realtà i cartaginesi stavano espandendosi verso anche la parte orientale del Mediterraneo e Roma si sarebbe trovata ad avere i cartaginesi nel mare tirreno i cartaginesi nel mare adriatico e sarebbe poi stata schiacciata e circondata quindi questa è sempre anche questa una guerra tutto sommato giusta una guerra preventiva che doveva prevenire ciò che sarebbe potuto succedere quindi voglio dire è questa visione della grande strategia la Roma non vuole conquistare per saccheggiare non vuole fare guerre ingiuste non vuole nemmeno in realtà la classe senatoria non voglia nemmeno impadronirsi di terre e così via però era molto attenta diremo a una strategia globale lungimirante che non pensava al momento pensava alla politica a quello che avrebbe potuto succedere e all'interesse supremo della patria cari amici appassionati di storia romana arrivederci al prossimo incontro